ciao amici sono lox bentornati sui fatti l'opinione di lox il canale per i veri malati di sport sono in ritardo ma ci sono eccoci sul nostro classico appuntamento serie a la sfida lecce contro torino come sapete il torino ha vinto per 2 a 0 ha espugnato il via del mare e per la prima volta nella stagione lecce ha perso tre partite consecutive perché infatti dopo la grandissimo filotto che aveva portato al successo a bergamo che aveva mandato il lecce anche sulle pagine europee per la grande prestazione contro la squadra di gasperini sono venute queste tre sconfitte devo dire la prestazione di ieri rispetto a quella contro sassuolo e a quella orribile contro l'inter è stata a mio avviso migliore però rimane che il torino ha vinto sostanzialmente grazie a due episodi due episodi due gol realizzati nell'arco di tre minuti e poi a difesa oltranza senza peraltro soffrire molto perché lecce comunque al di là di una prestazione di cuore o di intensità maggiore rispetto alle ultime partite non è riuscita comunque sostanzialmente a creare occasioni da rete un po perché come sempre le punte fanno fatica a procurarsi da soli chance di realizzazione partito si se è entrato nella ripresa colombo al suo posto devo dire colombo sapete io non sono un grandissimo suo tifoso però trovo abbia giocato una partita migliore di sisè una partita sufficiente nel complesso e addirittura nel finale abbiamo avuto anche l'esperimento di avere le due punte quando è uscito strefezze ed entrato perso però di fatto se la gara ha avuto nel complesso tre tiri nello specchio della porta due del toro con cui ha fatto i due gol e una del lecce un tiro da fuoriare di uden parato facilmente da milinkovic per il resto il lecce appunto ha avuto poche occasioni da rete ha fatto un buon lavoro di pressione soprattutto nell'arco di un confuso secondo tempo ma la partita in con nel complesso ha avuto uno sviluppo molto poco lineare in questo aiutata penalizzata a suo modo anche dall'arbitro sacchi che trovo abbia trovato una giornata piuttosto negativa sicuramente il torino è un unicum in questo desolante panorama della serie a italiana è una squadra che gioca con una grinta fuori dal comune con grande intensità anche con durezza fisica bisogna avere anche arbitri di polso che sappiano gestire le situazioni e tirare fuori le solite storie del toro il cuore toro queste cose credo non abbiano più senso nel calcio moderno però il toro è una squadra di urici uric è un allenatore giusto da torino e trovo che la formazione granata abbia giocato una partita molto intensa perché una volta che ha trovato le due reti e la prima sul calcio di punizione molto morbido concesso dall'arbitro sacchi e sulla dinamica della punizione una difesa del lecce molto mal piazzata il singo che batte preciso falconi secondo gol è una grandissima accelerazione di radonich che credo sia il giocatore migliore del torino nettamente non solo per le sue esperienze quello che aveva fatto anche così in marsiglia però penso sia uno dei giocatori migliori della formazione una grandissima accelerazione nella quale ha messo per la prima volta forse nella stagione veramente in difficoltà maschirotto e poi il passaggio al centro sul quale sanabria è stato bravo a mettere il pallone in rete tolto quello il torino ha difeso difeso bene ha difeso con due giocatori shurs e gravillon soprattutto che mi sono piaciuti molti in particolare devo dire mi sono sono rimasto molto colpito da gravillon questo ragazzo che ha giocato con una grande intensità mi ricordato un po di achite della ternana per intensità per grinta è uscito poi sfinito poco prima della fine ma trovo abbia giocato una grandissima partita non mi è piaciuto invece al contrario l'altro centrale buongiorno che penso con un arbitro diverso avrebbe potuto anche essere espulso perché avrebbe già meritato un cartellino giallo su strefezza poi l'arbitro gli ha invece dato il cartellino giallo al secondo fallo simile sull'attaccante del lecce però anche in questo caso invece sa chi ha preso la decisione di lasciare un po correre è stato molto sui cartellini è stato molto ondivago anche nel caso per esempio di julman lo ha munito per un intervento con linetti che per un attimo ha fatto temere il cartellino rosso come nella follia della partita con la roma invece li lo ha munito poi un minuto dopo di uno ha fatto un secondo fallo che avrebbe probabilmente meritato il cartellino giallo su un'azzo avendo fermato un'azione del torino che si lanciava verso la porta in quel caso invece non gli ha dato il secondo cartellino giallo come nel caso per esempio di malè che ha fatto un fallo brutto su ricci avrebbe meritato il cartellino ma sa chi ha scelto di arbitrare in una maniera alla carte un po casuale e devo dire non penso abbia fatto un buon lavoro l'arbitro di macerata il lecce ora è atteso della sfida con la fiorentina da un punto di vista della classifica in sé la situazione è ancora abbastanza positiva siamo alla giornata 26 mancano 12 partite lecce quindicesimo con 27 punti 8 punti davanti alla linea però sicuramente una squadra in questo momento che mi pare un po in involuzione c'è anche un gonzalez che non sta giocando sicuramente ai livelli del girone d'andata nella partita di ieri il solo julman penso abbia giocato veramente bene veramente sui suoi livelli anzi è stato ammirevole commovente in tanti recuperi che ha fatto andando a chiudere le azioni di gioco del torino in una sfida anche così fisica e human se qualche giocatore in più del lecce avesse la grinta che a julman sicuramente questo sarebbe meglio lui come capitano credo debba trasmettere anche un pochino più di questa intensità che soprattutto lì davanti non sempre tutti i suoi compagni hanno non mi è piaciuto invece appunto di gonzalez abbiamo detto per una volta appunto ha trovato in difficoltà baschi rotto che al di là del gol del 2 a 0 dove si è perso completamente la sfida con radonici però anche in un altro paio di circostanze suoi rinvii hanno rimpallato contro avversari una volta contro un titi capita in una stagione giocata a grandissimi livelli aveva saltato settimana scorsa la gara di san siro penso possa capitare anche di sbagliare una partita comunque di essere insufficiente in una partita non mi è dispiaciuto uden che soprattutto batte dei calci d'angolo veramente molto molto pericolosi molto tagliati di mezzo all'area però delle volte non ha trovato proprio compagni con i quali dialogare che fossero un po sulla sua stessa lunghezza d'onda devo dire quindi nel complesso un risultato deludente un torino che una squadra e settima in questa serie a penso che questo abbiamo detto più o meno tutto su di che campionato stiamo parlando è una squadra molto concreta sono curioso di vedere la sua sfida contro il napoli nella settimana prossima la squadra comunque futuribile decisamente e quindi e complimenti comunque iuric per il complesso che ha messo che è riuscito a mettere su per il lecce è il momento di ritrovarsi come gruppo la trasferta sul campo della fiorentina è delicata importante bisogna muovere la classifica per non farsi prendere magari dal panico come dicevamo anche quest'inverno il fatto che ci sia una squadra così tanto piena di giovani questi sono i momenti nei quali l'esperienza conta l'esperienza di saper rimanere tranquilli nonostante le cose stiano andando un po meno bene di come sono andate fino a poco tempo fa la squadra è molto giovane ci stanno questi alti e bassi ripeto dal punto di vista in sede la prestazione non mi ha così deluso come quella di settimana scorsa o anche quella col sassuolo che avevo trovato molto poco positiva e ha mancato il risultato e soprattutto bisogna trovare un modo di costruire qualche occasione in più da rete il video già sette minuti passa per cui andiamo con le pagelle poi attendo i vostri commenti naturalmente per il lecce se a falcone cinque e mezzo scendere cinque e mezzo a baschi rotto se è un titi sei a gallo che è un mix tra le cose buone che trovo abbia fatto in attacco e le cose meno buone che abbia fatto in difesa se mezzo blen sette a yulman 5 a gonzales 6 a strefezza 5 a si sé e 5 e mezzo di francesco di subentrati 5 a male 6 a colombo e 6 e mezzo out and 6 a baroni invece per quanto riguarda il torino 6 a milinkovic 7 gravi on sette assures 5 e mezzo a buongiorno 6 e mezzo single 6 a linetti 5 a ilic non vorrei tanto sapere cosa ha detto a strefezza davanti alla panchina del lecce non mi è piaciuto per niente nel comportamento nella partita di ilic 6 e mezzo rodriguez 6 a miranciuk 7 radonici e 6 e mezzo a sanabria 7 iuric 6 e mezzo ricci dei subentrati 4 e mezzo sacchi 33 falli siamo uniti grazie ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni iscrivetevi al canale l'appuntamento con la serie a è a firentina lecce di settimana prossima grazie un bacio e ciao a tutti